Fresco di release date annunciata pochi giorni fa, Vampyr è tornato a mostrarsi alla stampa al What's Next di Focus, evento parigino dalla durata di due giorni che ci ha permesso di entrare in contatto con tutti i titoli che verranno distribuiti dal publisher francese nel prossimo futuro, compreso ovviamente il gioco di Dontnod. L'appuntamento era diviso in due parti, una prima mezz'ora di end-off e una successiva sessione di end-on dalla durata di ben due ore, oltretutto sulla versione finale del gioco. Abbiamo dunque affilato i nostri vampireschi canini e ci siamo tuffati nell'intrigante mondo di Vampyr, ecco le nostre impressioni. Vampyr è ambientato a Londra nel 1918, ovvero il periodo successivo alla Great War che mise in ginocchio la città. Il protagonista di questa macabra storia è il dottor Jonathan Reed, un uomo che sarà chiamato a salvare la città nel duplice ruolo di medico e vampiro. La nostra prova partiva esattamente dalla cazzina iniziale del gioco, quella dove Reed si risveglia intorpidito in mezzo alle strade di Londra per scoprire di essere diventato un famelico vampiro. Quella che ne consegue sarà un'avventura fatta di sangue e di scelte importanti. Il destino della città è tutto nelle nostre mani. Il plot narrativo di Vampyr infatti è abbastanza particolare, da una parte dovremo investigare sulla malattia che affligge la città, dall'altra dovremo capire perché siamo stati trasformati in vampiri e che ruolo ha questa specie nell'economia della storia. La parola d'ordine, lo capirete presto, è equilibrio. In quanto vampiro, Reed dovrà nutrirsi per sopravvivere, cercando però di evitare di esagerare, altrimenti le conseguenze saranno devastanti. Il tessuto sociale in Vampyr è fondamentale e dovrà essere monitorato costantemente. Ogni azione avrà una conseguenza e decidere chi uccidere evolverà il modo di gioco in un modo o nell'altro. Quello che colpisce particolarmente del titolo di Dontnod è la stratificazione del gameplay, che oltre a un combat system ispirato a quello dei Souls, ma reso più dinamico dalle abilità vampiresche, oltre che da movimenti e animazioni più rapide, propone un sistema di progressione del personaggio legato a doppio filo al nostro modo di giocare. Per salire di livello infatti potremo intraprendere due strade, nutrirci o dedicarci al crafting. La prima, più intrigante e se vogliamo più facile, dovrà però essere affrontata con molta discrezione e oculatezza, cercando di evitare di mandare malore al quartiere che altrimenti verrà infestato dai putti di mostri notturni, che ci impediranno di investigare in serenità. La seconda invece sarà più lenta e laboriosa, ma altrettanto soddisfacente. Raccogliere materiali e assemblarli porterà comunque a ride a salire di livello, anche se in tempistiche molto più dilatate. In Vampyr comunque avrete molta libertà d'azione, si può terminare il gioco senza uccidere nessuno, e spetterà solo a voi decidere che tipo di vampiro essere. Le due ore passate in compagnia di Jonathan ci hanno trasportato in un mondo di gioco affascinante e dal colpo d'occhio notevole, merito di un motore di gioco, l'Unreal Engine, molto performante in termini ambientali e leggermente più grezzo a livello di animazioni e modelli dei vari NPC. Quest'ultimi però non ravvinano per niente un'esperienza di gioco che promette davvero grandi cose. In buona sostanza, preparatevi ad affrontare un videogioco solido, ambizioso e stratificato, caratterizzato da elementi distinti ma amalgamati con maestria e cognizione di causa. Se volessimo parlare in termini danteschi, descrivendo dunque la struttura ludica di Vampyr, mediante delle corone concentriche che rappresentano i vari livelli dell'inferno di Dontnod, potremmo farlo in questo modo. Partendo dall'alto, troveremo la storia, misteriosa, violenta e ricca di orrori, impreziositi da un setting storico azzeccato e mossa dalle motivazioni del protagonista, che si sposano con lo stato sociale della Londra del 1918. Seguirebbe l'ecosistema dei vari quartieri londinesi, uno snodo fondamentale nel gameplay di Vampyr. Ogni cittadino ha una storia, uno scopo e una vita che si interseca con quella degli altri abitanti. Uccidere il panettiere piuttosto che il prete porterà conseguenze concrete che cambieranno le carte in tavola, cercate quindi di approfondire la vita di ognuno prima di prendere una decisione. Il penultimo girone vampiriano sarebbe occupato dal combat system, ritmato e divertente, caratterizzato da un sistema di targeting in stile souls con tanto di barra della stamina, ma contestualizzato all'universo di gioco, grazie a abilità del nostro vampiro e ad armi che variano il buff set del protagonista in base all'archetipo utilizzato. Infine ci sarebbe la progressione del personaggio che ingloba in qualche modo tutto il resto, uccidere e sopravvivere oppure risparmiare tutti. Reed dovrà potenziare le sue abilità e come fare tutto ciò sarà una vostra scelta che ricadrà su tutti gli aspetti precedenti. Il modo in cui guadagnerete e investirete punti esperienza nell'albero delle abilità, diviso principalmente in schile attive e passive che purtroppo non abbiamo avuto il tempo di approfondire, determinerà il vostro stile di gioco e il rapporto che avete con il mondo che vi circonda. Per concludere in bellezza sappiate che Vampyr ha quattro diverse finali di cui uno segretissimo e a detta degli sviluppatori molto difficile ad ottenere. Preparatevi dunque ad affrontare un'avventura che si preannuncia memorabile, la notte sta per arrivare.